Tramfo, grandi allevatori italiani, li ricordiamo tutti con grande piacere. Sulla distanza del miglio, My Dream Gar, Melania, Martina Gual, Medilaser, Madras, Mururoa S, Musa e Megan Griff. In seconda, Mandragola, Maraguia, Moonlight, Mordidabar, Moriera, Monarca, Messalina, Melissa Fee. In terza, Miss Slide, Font, Maga Circe, Mrs. Francis. Otto in prima, otto in secondo, tre in terza, diciannove, le tre anni agli ordini dello start. Allineamento che va a completarsi. Inizia a prendere velocità la macchina. Buono l'allineamento. Serratissima la lotta per il comando, con la Madras che impegna Martina Gual, di dentro My Dream, all'argo, Medilaser, prosegue l'allieva di Lombardo Junior ed è al comando. Il 200 iniziale addirittura in 13.2 e così viene via subito Megan Griff, sollecita come non mai e l'allieva di Yorma Contio si presenta su Madras. Cavalli davanti alle tribune, i 400 se ne vanno in 28.1 e così Madras, Martina Gual, Megan Griff, all'argo, Medilaser, all'argo, la Melania, all'argo, Musa del Ronco. Più pariglie dopo 600 metri di gara, passati nell'ordine del 42.7, si viaggia. E le cavalli affrontano la penultima curva, con le due savori in pole position e c'è la Madras e la Megan Griff, poi la Martina Gual. Si va al completamento del mezzo miglio, mezzo miglio in 57.9. Con un 15.2 di frazione non si risparmia al comando Madras, all'esterno rimane sempre Megan Griff, mentre in corda serra sotto Martina Gual, quando siamo al chilometro, chilometro che va via in 1.12.3 con un 14.4 di frazione. All'esterno c'è il tentativo di risalito di Musa del Ronco, quando le cavalle sono all'attacco della piegata conclusiva, in vantaggio è sempre Madras, all'esterno Megan Griff, in corda rimane Martina, all'argo si avvicina Musa del Ronco, poi all'argo prova alla risalita anche la numero 6 di Mururoa S, quando siamo a tre quarti della piegata conclusiva. Madras prova ad allungare a 200 dal palo, Madras è in vantaggio in seconda posizione, sempre Martina. All'argo prova a sprintare Musa del Ronco, Madras è in chiaro vantaggio nei confronti di Martina e My Dream Gar che trova un varco. Madras, cost to cost, viene a vincere Giuseppe Lombardo Junior, seconda è Martina Gual, terzo è il numero 1 My Dream, la numero 1 My Dream Gar, 1.55.7, 14.8, addirittura di arrivo 1.12.3 per la vincitrice figlia di Zinzabruck Tour, della scuderia Bello Sguardo. Sì, 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 veramente, wonderful, wonderful, i colori di Cesare Meli e di sua moglie Laura in questo Ox edizione 2009, una splendida Zinzabruck Tour che dimostra ancora una volta di essere un fior di stallone, ma soprattutto è un fior di guidatore, questo Giuseppe Lombardo Junior. Va al comando, snocciola parziale, voleva correre assolutamente al comando e ci ha corso, aveva ragione. 1.55.7, signori, chapeau per una femmina cost to cost al comando sulla pista di Tordivalle. Veramente alla grande questa Zinzabruck Tour che farà veramente la gioia immensa della famiglia Meli. 5, 3, 1, 10 i numeri di...